Musica Oggi abbiamo varato la barca ufficialmente per la prima volta Musica La barca si è comportata benissimo Musica È stata una bella esperienza, io non avevo alcuna esperienza nella motonautica però penso che questa barca qui comunque da un modo di avvicinarsi in maniera facile ma comunque regala delle belle emozioni io arrivavo dall'automobilismo e sicuramente è stato molto divertente un ottimo rapporto tra qualità e prezzo e sicuramente è stata una bella esperienza e adesso mi avvicinerò in maniera un po' più approfondita perché può sicuramente regalare delle belle soddisfazioni Stock boat 2016, partiremo alla grande con 10 imbarcazioni tutte uguali motorizzate Suzuki 200 cavalli il campionato sarà un campionato itinerante perché gareggeremo sui campi di gara sparsi un po' per tutta Italia sia sui laghi che sui mari Musica 6 eventi con gara tripla e avremo un VIP ad ogni gara che sarà un po' il testimone del padrino che ovviamente correrà in barca Musica Musica lui viene dal motocross quindi è abituato ad essere proprio completamente solo però la divisa c'è, il coraggio c'è, la voglia c'è Musica 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 Suzuki ha aderito con molto entusiasmo a questo progetto della Uno Agency e di Tullio Bate per partecipare a questo campionato monomarca e monotipo Musica 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 Oltre alla televisione saremo presenti sulle maggiori e più importanti testate giornalistiche per quanto riguarda il mondo della motonautica e non solo, anche dall'automobilismo sportivo Musica 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 Vi aspettiamo numerosi sia per correre ma anche per seguirci Musica Musica Musica